Eccoci rientrati amici e amiche di Di Pomeriggio, lo avevamo preannunciato, oggi c'è un approfondimento, meglio c'è un ospite, un sindaco del territorio della provincia di Tenamo che abbiamo già conosciuto lo scorso anno, è tornato a trovarci il sindaco di Fanadriano, Luigi Servi, ben ritrovato sindaco, come sta? Tutto bene, grazie dell'invito. Voi sindaci della montagna dovete sempre correre per cercare di sopravvivere perché è anche questa una tematica, il piccolo comune di Fanadriano si sta muovendo tantissimo, sono tante le iniziative che lei ha messo in campo in questi anni proprio per il rilancio di questo territorio che ha voglia di combattere e ha voglia di far tornare a vivere questa importante comunità. Certamente, ha detto bene, siamo sindaci di piccoli comuni di montagna ma non per questo meno importanti di altri sindaci e territori situati a fondo valle. Fanadriano ha una situazione, lei adesso mi dirà, è di parte perché adesso ho cominciato il secondo mandato dove si è difeso molto ma molto bene. Basti pensare che in questi cinque anni abbiamo intercettato circa 20 milioni di euro ma poi ci torneremo dettagliatamente su questo punto. Circa un anno fa è venuto all'interno della nostra trasmissione proprio per parlare di questo progetto che è quello di Officine del Gran Sasso. Sta per compiere questa iniziativa circa oramai un anno, il primo anno di età, facciamo un po' il punto. Cominciamo a camminare da soli, una semilitudine con i bambini. Officine del Gran Sasso è un importantissimo progetto realizzato appunto dal comune con la partecipazione poi della struttura di Itaca. Inizialmente erano fondi del PNRR, oggi sono diventati fondi di coesione sociale. E quindi basti pensare e ricordare una cosa che abbiamo già realizzato con Officine del Gran Sasso. La bellissima sala polifunzionale che è stata completamente ristrutturata, restaurata e messa a nuova. E oggi è una sede appunto di importanti progetti come il co-working. Chiunque vuole può venire dal martedì al sabato completamente gratuiti ed anche per gli studenti del co-working c'è la possibilità anche degli alloggi gratuiti. Sta funzionando questa proposta perché comunque è un qualcosa di totalmente innovativo per il territorio della portale. Certamente, certamente. Devo dire che anche noi dell'amministrazione eravamo un po' dubbiosi perché il progetto così importante realizzato in una piccola comunità ci creava qualche dubbio. Ma poi ci siamo affidati a una struttura, ad esempio Itaca che è formata da professionisti e oggi veramente siamo il fiore a rocchiello di tutta la provincia di Teramo, non solo della montagna. Un progetto che è aperto alle persone che arrivano un po' da tutta Italia e questa un po' l'idea, creare un contesto anche economico perché poi lì si produce economia e anche questa è l'iniziativa. E le persone che vengono lì e fanno parte di questo progetto creano valore aggiunto per il territorio. Assolutamente, assolutamente sì. Ad esempio, tornando a officine del Gran Sasso, hanno preso un finanziamento per Io resto al sud e quella è la possibilità appunto per chi vuole creare un'attività di poterla realizzare. Questo appunto, come diceva lei, è un importante punto per chi vuole tornare ad abitare, ad investire in queste aree interne che a me quanto si parla di aree interne è una cosa che mi dà molto, ma molto fastidio. Fastidio perché? Sì, perché... Perché lei dall'inizio diceva, sì, sono il sindaco di un piccolo comune, ma valgo come gli altri un po' è questo... Quando si parla di aree interne si usano aggettivi come disagiati, svantaggiati e io faccio fatica a considerare disagiato, svantaggiato un territorio bellissimo, baciato dalla fortuna del creato, immerso nella natura. Abbiamo la fortuna di essere totalmente nel Parco Nazionale del Gran Sasso e io sono onorato di far parte da quattro anni della comunità del Parco e quindi dico si fa fatica, certamente poi dobbiamo fare con la realtà, c'è la difficoltà dei servizi, ma questo appunto sta a noi sindaci che abbiamo avuto gli onori e gli oneri di far sì che questi servizi vengano. Uno fra tutti, Fan Adriano, è stato uno tra i primi paesi a realizzare la fibra ultralarga, la fibra ortica, non quella misto rame, quella proprio che sia a termo. Quindi chiunque voglia venire a Fano per spostarsi, tornare a lavorare, anche a vivere, oggi lo può fare. Perché poi diventa un parametro essenziale per spostarsi e andare a lavorare fuori? Chi lavora da remoto ha bisogno della linea veloce? Poco tempo fa si diceva appunto non torno perché con la settimana breve, dopo che siamo usciti dal problema del Covid, il lavorare da casa, da remoto, oggi chi vuole appunto lo può fare, stiamo cercando di realizzare il wifi libero per i turisti che vengono appunto su Fan Adriano. Fan Adriano per me, le ripeto, può sembrare che un sindaco faccia propaganda, pubblicità alla propria amministrazione. Se io penso a Fan Adriano cinque anni fa e lo vedo oggi, lo vedo molto molto migliorato. Servizi ci sono, abbiamo diverse strutture recettive, gastronomiche, abbiamo ancora una farmacia, abbiamo una guardia medica. Certo sono strutture che faticosamente cercano di andare avanti, ma un po' con l'aiuto del Comune, un po' per la loro bravura, siamo ancora diciamo come comuni più grandi. Sindaco, c'è stata comunque un'altra importante notizia, è stata quella della Costituzione della Cooperativa di Comunità, questo è un progetto importante perché sta permettendo anche il recupero e la valorizzazione di strutture già presenti sul posto. Anche questo sembrava impossibile quando abbiamo fatto i primi incontri con il Presidente della Cooperativa di Comunità, Massimiliano Monetti, quello che ci stimolava appunto a far sì che Fano potesse avere una cooperativa di comunità. Ci siamo riusciti in tempi strettissimi, con diverse, più di 30 soci e continuano ad aumentare. E anche la Cooperativa di Comunità ad oggi gestisce la struttura recettiva ex ostello, sono 11 camere doppie, ha partecipato quest'anno alla prima raccolta di vino, dei vigneti di comunità, di territorio dove appunto sono stati rimessi dei vitigni autoctoni. E stanno anche valorizzando la sala polifunzionale. La sala polifunzionale, quindi si sta creando, si è cercato di creare quel circuito che porta solo benessere. E questo voglio dire che non lo trovo in altri comuni. Fanadriano ce l'ha. Le nuove generazioni, in base a quello che ci siamo detto, stanno rispondendo. C'è voglia comunque di venire a vivere anche in questo territorio? Perché quando si trova in un territorio che c'è la tranquillità, che è una cosa bellissima, c'è la montagna, giustamente lei diceva, è un paesaggio fantastico, ci sono tutti i servizi. Può essere che i giovani sono intenzionati a tornare o meglio a vivere questo territorio? Allora io sono un sindaco che forse è uno dei pochi che vive ancora nel territorio e vive il territorio. Abito stabilmente a Fanadriano dopo aver passato la mia vita lavorativa in altri luoghi. Sono tornato. Si comincia appunto a sentire la voglia di tornare. Ad esempio c'è stato e questo ringrazio l'intera giunta regionale e anche il Presidente Marsilio per quei sostentamenti, quei fondi che danno a chi vuol far nascere un figlio in un piccolo comune sotto mille abitanti oppure di chi torna a vivere su comuni piccoli. E questo, e poi torno a quello che mi ha detto, questo è un grosso risultato perché noi siamo passati dai 251 residenti del mio inizio di mandato siamo arrivati a 300. Quindi qualcosa si comincia a partire. La percentuale è alta se si considera. Che appunto, dico sempre io che bisogna partire dai piccoli numeri perché è impensabile che Fano possa di nuovo riumentare 100, 150. Bisogna partire innanzitutto mantenere quello che abbiamo e poi cercare piano piano di migliorare appunto la nostra popolazione anagrafica. E questo poi è il passaggio essenziale. Io ripeto, c'è anche il cambiamento climatico e non sono più gli inverni rigidi di una volta. Anche questo è un vantaggio per chi vuol tornare a vivere in questi luoghi. Speriamo, quando si parla di lotta allo spopolamento, lo spopolamento è già avvenuto. Da noi è già avvenuto lo spopolamento, non per colpa di qualcuno. C'è stato dopo gli anni del periodo industriale, chi ha preferito non dedicarsi più alla pastorizia e all'agricoltura e quindi hanno intrapreso, hanno preso altre strade e quindi pensi che non ci sono più le scuole e quando viene a mancare quell'anello importante di quella catena sociale i bambini, una comunità è anche a rischio di estinzione. Però, e dico un'altra cosa, che per fare un sindaco di un piccolo viaggio ci vuole una grande dose di pazzia perché è veramente difficoltoso fare un sindaco in comunità così piccola. Perché poi abbiamo gli stessi doveri di un sindaco, abbiamo le stesse incompenze. Ma non avete certo il personale. È quello, anzi... Quindi a volte il sindaco è costretto anche a fare il tecnico e andare proprio di persona. Una persona nelle case ricevere il mio telefonino è aperto 24 ore su 24. Sono un sindaco che in 5 anni è stato presente 365 giorni all'anno senza un giorno di feria. Ma perché l'ho voluto? Perché a me piace, perché mi nobilita. E questa è la cosa. Però le zone montane sono queste. Per non parlare poi di Prato Selva, vogliamo parlare anche di... Sicuramente un argomento, visto che lei prima ha detto che non ci sono più gli inverni di una volta. Questo significa, siccome qualche settimana fa è venuto qui ospite da noi il sindaco di Pietracamera Villani, lui ha detto che bisogna cambiare il turismo perché sta cambiando tutto. Quindi attaccarci solamente alla questione degli impianti di risalita, sì, ok, è una battaglia che porteremo avanti, ma rischiamo di avere gli impianti che funzionano ma non avere la neve. Quindi non abbiamo risolto assolutamente nulla. I primi due o tre inverni non abbiamo mai avuto la neve. Un giorno, due giorni e poi la neve, rialzamento di temperatura e la neve di nuovo scompariva. Ecco, anche quello. Io sono dell'avviso che dobbiamo appunto riconvertire queste stazioni, perché è impensabile avere una stazione come la nostra, prededitivo, 1400 metri, con questi cambiamenti climatici. Ma abbiamo la fortuna di vivere in un territorio immerso nel verde. Siamo facendo parte dei 44 comuni del parco. Quella è la cosa dove dobbiamo a noi appunto puntare. Su quello dobbiamo puntare, sulla sentialistica, sul trekking, su queste cose. Come il turismo lento è definito così? Io sono dell'avviso, a me non è mai piaciuto il turismo di massa, perché abbiamo delle zone bellissime. Chi viene a visitare, a fare dei percorsi, ci tornano. Abbiamo la bellezza architettonica, abbiamo l'Eremo dell'Annunziata, che chi ci viene una volta è costretto a tornarci, perché poi vuole di nuovo rivedere una bellezza così. L'Eremo è stato un po' lo scenario di questo importante progetto che lei ha creato da zero, che stiamo parlando del premio Zilli. Anche qui. Lei è riuscito a portare in questo posto, fantastico, tantissime personalità di fama nazionale. Per questo premio, per un personaggio nato a Fanno Adriano, che è Zilli, e proprio poi crescere in maniera forte, perché quest'anno ha avuto un importantissimo risultato. Ogni anno cercheremo appunto di salire sempre più in alto. Anche questo, realizzare un premio giornalistico nazionale in un piccolo comune, non è cosa da parte, la ricerca dei fondi, perché noi siamo sempre disperatamente la ricerca di sponsor, di fondi e così, ma anche realizzarlo in un piccolo comune. Abbiamo portato i personaggi del calibro di Maria Concetta Mattei, di Marcello Sorgi, dei premiati tantissimi, Gustavo Di Caracciolo, ma anche la squadra che fa parte appunto del premio. Non sto ricordando nessuno, altrimenti poi... No, ci dimentichiamo sicuramente qualcuno. Ci dimentichiamo di qualcosa. E anche quello abbiamo avuto la fortuna di avere il Don Giuseppe Zilli, che è un direttore di Fiammelli Cristiana dal 54 all'80, che era di Fanno Adriano. E oggi stiamo celebrando... Si svolta la terza edizione, quindi già state lavorando alla quarta. Stiamo lavorando per la quarta edizione. Che poi è un evento che ha il premio, che è importantissimo, però è anche un'occasione per chi viene da fuori a vivere e conoscere più da vicino il suo comune. Certamente, quella è la cosa importante, perché avere dei personaggi appunto di calibro nazionale giornalisti oppure di altri campi è qualcosa appunto che ci nobilita. Ripetiamo, siamo una piccola comunità, però abbiamo la fortuna di essere baciati, della fortuna di vivere in questi territori bellissimi. Io quando vedo davanti all'ermo la mestosità del Gran Sasso... Lei si vede e si percepisce che è follemente innamorato del suo territorio. Sono follemente innamorato dei nostri territori. Però anche questo è... Ormai la conosco da diversi anni. Lei ha sempre lavorato anche per creare sinergia con gli altri sindaci. Non è mai stato un sindaco, io vado per la mia strada, se volete mi seguite. E anche questo è un passaggio essenziale per questi territori. È fondamentale, perché fino a quando ognuno di noi... Mi ci metto anche io, perché non è che io sono speciale o diverso dagli altri. Ci guarderemo, come appunto detto, il nostro orticello. Non pensiamo infatti a cooperare, a una coprogettazione con altri territori. Rimarremo sempre una piccola comunità. Dobbiamo lasciare da parte i personalismi il nostro bene alla nostra comunità. Noi ad esempio abbiamo un progetto che non riesce a decollare. Quello delle sette sorelle, sette eremi, sette santuari che a 360 gradi girano appunto su tutto il versante, partendo da Fano, Pietragamello, Crognaleto, scendere a Montorio, Cerqueto e da... E questo progetto non riesce a decollare. Non riesce a decollare. Questa appunto è la cosa. Bisogna sforzarsi di cominciare a pensare non a Fano Adriano, Sincolo, Pietragamello, Crognaleto, ma al territorio, l'Alto Vomano, per scendere fino a Montorio, la Valle Siciliana e così. Fino a quanto così non faremo niente. Questo è un importante messaggio, ovviamente, anche un invito agli altri sindaci a cercare di trovare un'unione, anche se so che comunque state collaborando. Certamente, certamente le cose sono un po' migliorate, diciamo con i sindaci di Mitrofi, per arrivare fino a Cortino, Rocca Santa Maria, Pietragamella, Crognaleto. Però dobbiamo sforzarci ancora di più. E io dico sempre che poi noi, una volta che siamo arrivati a una carica di sindaco, ci dobbiamo svestire, anche se abbiamo un'appartenenza politica, ci dobbiamo svestire perché dobbiamo lavorare per il bene della montagna e di tutto il territorio. Una cosa dimenticavo, ad esempio. Noi abbiamo, e questo lo valorizzeremo, lo voglio anticipare, perché sono certo che si farà prossima primavera. Noi abbiamo un'azienda agricola, tornata sul territorio di Fano, che produce zafferano. È la prima volta che lo zafferano viene prodotto qui nel versante Terravallo, di ottima qualità, con bulbi presi sempre dal versante aquilano di Navelli. E quello è un primo segnale. persone che sono tornate a investire sul territorio di Fano Adriano. E intorno allo zafferano potrebbe creare qualcosa legato alle attività gastronomiche, un piatto tipico legato allo zafferano di Fano Adriano. Su quello dobbiamo lavorare, sui piccoli numeri, perché dai piccoli numeri si passerà senza altro qualcosa di più importante. Sindaco, siamo arrivati alla fine di questa bellissima, definiamola così, chiacchierata, un po' per conoscere i progetti che voi state portando avanti all'interno del vostro comune. Non abbiamo parlato di tantissime altre iniziative, perché il comune sta, grazie ai fondi del PNR, riqualificando le strade, sta portando avanti la riqualificazione del campo da calcio, mi diceva prima Fuorionda. E questo è un passaggio anche fondamentale, perché si collega a tutto quello che abbiamo detto prima. Se viene a Fano trova tutta una serie di cantieri, adesso troverà 6-7 cantieri aperti. Prossima volta, se volete, possiamo parlare della ricostruzione. Finalmente cominciamo a vedere le cosiddette gru. Perché anche quello incide, per capire se è un comune... Anche quello appunto incide. C'è stato, anzi, io volevo a proposito dire, perché qualcuno mi ha un po' criticato in un'intervista che ho fatto al messaggero, ho definito, così almeno lo hanno scritto, il fanatriano come il terremoto giù della campagna. Io ditevo quello, ma come ritardi, non dando la colpa alla politica, il ritardo c'è, perché basti pensare che un terremoto del 2009, siamo nel 2024, e voi avete il doppio cratere. Noi siamo il doppio cratere 2009-2016, e anche questo ha contribuito a uno spopolamento, ma ha contribuito anche a danni a livello di bilancio, perché noi abbiamo più di 200 abitazioni inagibili, quindi con introiti, a cominciare dalla Tari, dal Limo, dall'acqua, che non vengono pagati. Nonostante tutto, vi voglio anticipare, Fanatriano è il primo comune più virtuoso della provincia di Teramo. Siamo il primo comune in reddito pro capite, però siamo l'ultimo comune in termini di natalità e di età. Quindi siamo un controsenso. Un po' un controsenso, però sindaco sicuramente ci rincontreremo per approfondire questa tematica che ovviamente poi ne apre tantissime altre. Amici, siamo arrivati alla fine dell'intervista del sindaco, lo ringraziamo, Luigi Servi, sindaco di Fano Adriano. Sicuramente, come abbiamo detto, ci rincontreremo, ma adesso guardiamo insieme l'approfondimento targato Barbara Passerini dedicato all'Istituto del Conservatorio Braga.